Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo su, come potete vedere, GTA San Andreas Bene, siamo ritornati su sto gioco, sono ritornato anche con la facecam su questo gioco, cioè sono tornato Scusate se mi inceppo col mio nome, non riesco a capire perché mi inceppo col mio nome, però va bene Io adesso, questo qua è il mio ritorno sul pc, io adesso cercherò di fare nel frattempo qua davanti Perché più i video saranno corti e più ho possibilità che riesco a editarli Quindi io adesso cercherò di riuscire a editare bene i video, cioè di riuscire a editare i video E se riesco a editare porterò i giochi sul pc e riporterò i giochi sul pc e riprenderò tipo Most Wanted Riprendo a fare cazzeggio time su GTA San Andreas Tra l'altro adesso noterete qualcosa di diverso su questo GTA San Andreas Bene, cominciamo subito Fando le ciance cominciamo subito, allora io mi tengo in fogli con i trucchi Da oggi andremo a fare un po' di cazzeggio time Ok Perfetto, bene, è uno Ora direi di salire sul mio amichetto qua, molto carino e molto amichevole Direi di mettere subito le massime stelle Così almeno ci divertiamo un po' Giusto per divertirci un po' Scusate se sto selezionando i trucchi Porca loca Ok, eccole qua Allora Oh mio dio, ma quanto è lungo sto trucco? Allora Ah, devo rifarlo più alto Turn up the heart Perfetto Questo me lo ricordo persino a memoria adesso Bene Andiamo a distruggere tutto Buongiorno Scusi buon uomo Cosa vuole dalla mia vita? Aspetti eh, ti faccio un messaggino molto amichevole È morto Buongiorno Pure lei Oh cazzo No, 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 no Aspetta, aspetta, parliamo, ne parliamo Ragioniamo Tu sei un carro armato Vai via Vai via Vai via Brutto Stronzo Aia Anculo Aia No Bastardo Che non muore Ma che cazzo Andiamo via Ma Sono bloccato come un maiale Lo sapevo No, 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 non ci credo Non ci credo Bene Ho failato come un porco No, 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 no Adesso mi fa tutto sto ambaradam Bene raga Ho failato come un maiale Allora Adesso rifaccio la cosa che volevo fare Non volevo che mi arrestavano come un maiale Malandato Quindi bene Magari Ritento Spero di non failare come un maiale In carciofatto Quindi Se rifailo terminerò il video E spero che vi sia piaciuto Io cercherò di farli più corti possibile Sì, ho capito Madonna Oh Porca loca Vent'anni per farmi capire Che c'è Ho capito Ho capito Non c'è bisogno Eccolo qua il mio amico Buongiorno Allora Adesso Sì, salve poliziotto No, no, no Guarda che mi arresta Quello da puttana Allora Turn Turn The Bene Turn Up The 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 No, no, no Via, 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 via E questi mi vogliono Ma levati dalle palle Tu Ti levi Cazzo La gente che non si leva dalle palle Sì, sì Dai, toccami ancora Toccami Sì, non esplorvi Pezzo di merda E' morto quello Raga Vado a fare casino Col carro armato Buongiorno Scusi, buon uomo Eh, la madonna mia Ma non devi saltare così Non siamo a jump Ok, il mio carro armato Sta prendendo fuoco Non è un buon segno Buongiorno Buongiorno Scusi Volevo passare Aspetta Turn Up The E At Bene Finalmente Ora ci divertiamo Oh, cazzo Oh, sì, sì No, no, no Tu sei brutto Via Brutto Aiuto Aiuto Attacchi terroristici Siamo All'isis qua No, 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 no Via, 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 via C'è un cazzo di carro No, no, no Vabbè, tu che mi tamponi Mi hai fatto male il cane E c'ho del sangue E c'ho del sangue Che mi esce da Ciglioli Alla Wackbar Alla Wackbar È la madonna mia Olè Ho investito un tizio È diventato una frittatina al pesto Sì, perché ci sono le frittate al pesto È la madonna mia Che botta che gli ho dato a quello Porca loca Speriamo che riesco a ritarlo il video Perché è veramente divertente Ah, raga Adesso ve lo dico Io sto facendo Sicuramente c'è un mio amichetto Eccolo lì Allora, adesso Allora, vi farò un po' di piazza pulita Volevo dire Oh, è la madonna mia Oh, levati dal cazzo tu Dov'è È sparito Il mio amichetto Comunque, volevo dire Che io adesso Se riesco a ritarre sto video Ho deciso di fare Tre gare Anche su Unifor Speed Most Wanted Quindi Boh, io spero che Che vi piaccia come cosa E Boh Anche perché io volevo ritornare sul PC Mi dispiaceva non fare giochi sul PC Un carro armato mi vuole stuprare Aiuto No, 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 no Aspetta, aspetta, aspetta Zio No, no Parli Ragioniamo Ragioniamo Siamo fratelli Io e te Ok Eh, sì Vabbè Tre Che cazzo siete voi Andate via Vi uccido Bastardi No, non muoiono Non muoiono Mamma Non muoiono Eh, sì Sto facendo una montagna Grazie alla spinta Andiamo via, 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 via Che non muoiono Ma levati tu con quel bobcat Di merda E adesso si mette in mezzo al cazzo Allora È l'ora di farli fuori tutti Oh cazzo Eh, il mio carro armato Non sta facendo un bel fumo Fermati amico Ok Ok Che figlio Va a fare un tuo culo Va a fare No, 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 no Ok Che culo No, non vedo un cazzo Ok Non si muove il carro armato C'è qualcosa che non va Sta bene raga Ho failato di nuovo Bene Boh Io ho cercato di fare un wrestling Molto divertente Faccio cazzeggio Ancora Ma basta Non mi interessa Boh raga Io spero che il video vi sia piaciuto Spero che riesco a pubblicarlo Tra l'altro Ci spero tanto Io Cioè Ho cercato di farlo Il meno corto possibile Cioè Il più corto possibile E Boh Io non riesco a capire Perché sbaglio Il mio nome è inizio Alex Pios Alex Pios Porca loca Boh raga Io spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciate mi piace E Alla prossima belli